A raccontarsi a Belve, programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2, è stata Emma Bonino. La puntata, in onda martedì 10 ottobre in prima serata, ha visto tra gli intervistati anche Federico Fashion Style e Stefania No. Tornando alla Bonino, l'intervista ha attraversato alcuni momenti salienti della vita di quest'ultima, dall'infanzia alla vocazione politica, fino ad arrivare ai giorni nostri. In tutto ciò, è arrivata anche una bellissima notizia. Emma Bonino, proprio davanti a Francesca Fagnani, ha rivelato di essere guarita dal tumore. La politica ha quindi spiegato, sono guarita dal tumore. Devo fare ancora un attack di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se n'è andato. La lieta notizia è arrivata mentre la Bonino stava affrontando il discorso dell'ambizione politica. In molti, ha ricordato la Fagnani, hanno rinfacciato all'intervistata una certa ambizione. Le sembra un reato che le donne abbiano un'ambizione? Sono andata avanti e continuerò ad andare fin dove mi reggeranno le forze, spero a spazio anche al rapporto con Marco Pannella, con la Bonino che ha confessato che si trattò di una rottura unilaterale da parte sua, con la prima che ne soffrì molto e non ne comprese mai del tutto i motivi. Quando la conduttrice di Belve le ha chiesto se non avesse mai davvero compreso il perché di tutto ciò, la Bonino ha ribadito. No, o forse mi ha fatto talmente male che ho voluto assolutamente girare pagina e pensare ad altro. Il discorso su Pannella si è concluso con una rivelazione della Bonino su cosa avrebbe voluto dirgli, ma che non ha fatto in tempo a dire, sì, gli volevo chiedere ma che ti prende, ma che ti viene in mente. Il discorso si è poi spostato sul capitolo, Belvate. Quando le è stato chiesto se ce fosse una che rivendica o di cui si pente, la Bonino ha lanciato la frecciatina. Io ne ho ricevute di Belvate, se è per quello. Non mi posso dimenticare lo schiaffone improvviso. Mi ha lasciato il segno perché il 2 agosto aveva firmato un accordo scritto da lui e il 7 agosto, nella trasmissione di Lucia Annunziata, avverte che in effetti lui non regge e se ne va. E se ne va con Renzi. Alla fine, però, Calenda ha chiuso anche con Renzi, come fatto notare dalla Fagnani stessa. Bonino ha quindi concluso il discorso. Chi la fa, l'aspetti.